ecco la traduzione del testo in italiano nico gonzalez è sempre più vicino alla juventus nico gonzalez è vicino a un trasferimento alla juventus nel mondo del calcio ci sono continuamente voci di trasferimento e uno dei temi più caldi di questi giorni è il possibile passaggio di nico gonzalez alla juventus l'attaccante attualmente sotto contratto con la fiorentina ha fatto scalpore nella scorsa stagione e ha suscitato l'interesse di diversi top club berichten zufolge wird der 25-jährige argentinia als idealer neuzugang für die altmeister aus turin angesehen insbesondere die scouts der juventus sollen seine leistungen bei fiorentina genau beobachtet haben wo gonzalez in der letzten saison maßgeblich zum offensiven spiel des teams beitrug quellen aus italien berichten dass die verantwortlichen der juve über seine fähigkeiten und sein potenzial sei beeindruckt sind ecco la traduzione del testo in italiano queste notizie sottolineano gli sforzi della juventus per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione la perdita di giocatori chiave e la necessità di riorganizzare la squadra hanno spinto i torinesi a cercare rinforzi sul mercato dei trasferimenti gonzalez è considerato un giocatore che si distingue sia in fase offensiva che nel gioco di squadra rendendolo un obiettivo allettante per i bianconeri secondo fonti vicine un trasferimento potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane poiché sia il giocatore che il club mostrano segni di apertura verso una collaborazione si pensa che gonzalez sia anche molto attratto dalla possibilità di giocare in uno dei campionati più forti d'europa e di rappresentare una squadra con grandi ambizioni il potenziale di gonzalez è molto apprezzato nel mondo del calcio durante il suo periodo alla fiorentina si dice che non solo abbia impressionato con i suoi gol ma anche con la sua intelligenza di gioco e creatività in particolare gli allenatori della juve sembrano essere molto interessati alla sua versatilità poiché gonzalez può essere impiegato sia come esterno che come centrocampista offensivo centrale la juventus è conosciuta per i suoi trasferimenti strategici e un ingaggio di gonzalez potrebbe rivelarsi una decisione saggia per rinforzare la rosa integrando al contempo giovani talenti nella squadra secondo alcune notizie l'atmosfera alla fiorentina è attualmente un po tesa poiché diversi giocatori sono presi in considerazione per un trasferimento il che potrebbe rendere le trattative per gonzalez ancora più accese mentre le voci sul cambiamento continuano a guadagnare slancho resta da vedere come si svilupperà la situazione offizielle bestätigungen seitens der clubs stehen noch aus doch die vorzeichen scheinen vielversprechend sowohl fiorentina als auch die juventus könnten mit einer einigung auf den transfer von gonzalez einen schritt in eine erfolgreiche zukunft machen für fans und beobachter bleibt es spannend ob nico gonzalez tatsächlich für die alte dame auflaufen wird traduzione le conferme ufficiali da parte dei club devono ancora arrivare ma i segnali sembrano promettenti sia la fiorentina che la juventus potrebbero fare un passo verso un futuro di successo con un accordo sul trasferimento di gonzalez per i tifosi e gli osservatori rimane avvincente scoprire se nico gonzalez scenderà davvero in campo per la vecchia signora gli osservatori sperano in un immediato rinforzo per la squadra e vedono in lui un giocatore chiave capace di supportare le ambizioni della juventus in serie a e nelle competizioni internazionali il lasso di tempo fino alla chiusura del mercato dei trasferimenti potrebbe rivelarsi decisivo per l'esito di queste trattative fino ad allora gli occhi del mondo del calcio saranno puntati su questa potenziale transazione poiché un trasferimento potrebbe innalzare ulteriormente il livello del calcio italiano autore anita fa che domenica 25 agosto 24